In recupero c'è questo intervento di Obodo su Baggio che il signor Rudomonti, oggi la 164esima partita in Serie A, giudica troppo energico concedendo il calcio di punizione. Tocco di Mauri, ferma Matusalem, tiro di Baggio e Calla c'è battuto con Adiloreto ingannato dal rimbalzo. E il 46esimo, Brescia 1, Perugia 1. Baggio lo vediamo non esulta perché calciando ha accusato, come abbiamo detto, un leggero problema muscolare.